Marta Menegatti qui a Caorle in coppia con Valentina Gottardi, Marta Menegatti reduce dai giochi olimpici e da un campionato europeo, ora qui alle finali di Caorle con un quarto turno conquistato. Il tuo commento sul match di oggi e sul percorso di queste due giorni? Lo tengo? No, sono contentissima innanzitutto di essere qui a Caorle per la finale e di aver avuto la possibilità di giocarle insieme a Valentina. Penso che ci stiamo divertendo un sacco insieme, nonostante i pochi allenamenti insieme. La partita è andata molto bene, l'avevamo preparata bene tatticamente e penso che abbiamo avuto le nostre occasioni per concretizzare nei momenti un po' più caldi del gioco. Loro comunque una buonissima coppia, quindi siamo davvero soddisfatte di come è andata finora. Valentina, oggi è una partita eccezionale come lo diceva anche Marta Menegatti. Due giorni fa ti sei lavorata campionista dalle Under 20, un risultato eccezionale. Un tuo commento su questo bellissimo successo anche giovanile e ora giocare un posto in semifinale nell'assoluto? Sono molto contenta di aver vinto questo scudetto Under 20 e anche per l'opportunità di poter giocare con Marta perché è una bellissima esperienza e potrò imparare molto giocando con lei. Grazie mille e in bocca al proprio il proseguio. Crepi!